E' diventato uno dei luoghi simbolo del contrasto alla pandemia di coronavirus in Veneto. Prima di febbraio, forse solo poco più degli addetti e i lavori sapevano dell'esistenza della sede regionale della protezione civile a Marghera. Nel 2020, col procedere dei mesi, questo edificio invece è diventato un indiscusso punto di riferimento familiare a milioni di Veneti. Alle mie spalle c'è l'ingresso che avete visto tante volte, lo spiazzo in cui ci sono state tante manifestazioni di lavoratori che hanno perso l'occupazione a causa della crisi provocata dalla pandemia di covid-19 e naturalmente anche il luogo in cui si tengono con cadenza quasi quotidiana le conferenze stampa del presidente Zaia, nonché la sede ovviamente della unità di crisi regionale per fronteggiare il coronavirus. Termini amministrativi come ordinanza e dpcm, formule inizialmente ambigue come distanziamento sociale, vocaboli inglesi come droplet e lockdown, sono rapidamente entrati nell'uso comune. La sede della protezione civile di Marghera è diventata l'epicentro da cui partivano e partono gli aggiornamenti quotidiani sulla pandemia in Veneto e le informazioni utili ai cittadini in un appuntamento diventato imprescindibile anche per i nostri telespettatori. Attorno queste strade e i suoi spiazzi sono anche diventati teatro delle manifestazioni di coloro ai quali il ha portato una grave situazione di crisi economica. Lei da quanto tempo è che viene qui a manifestare? Esattamente dalla metà di ottobre, è già la quarta volta che vengo qui. Che attività? Ho un centro fitness per l'attività motoria, ho chiuso 77 giorni in primavera e adesso siamo chiusi dal 24 di ottobre e non c'è una data di apertura per noi. Da qui sono state diffuse le notizie dei primi contagi in Veneto ma sono arrivati anche gli aggiornamenti sul progredire della ricerca e l'annuncio dell'arrivo dei vaccini. L'augurio per il 2021 è che la sede della protezione civile di Marghera possa presto annunciare anche la fine della crisi.